Ah, biberon, dove vai? Perché zompetti? Eh, ma dove cazzo? Come on! Hola, io sono Marcus Cron e bentornati nella Shalocraft. Sono senza skin perché non ho la connessione. Wind, ver di merda. Ok, siamo qui all'Hungry Hungry 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 Who. Battela, piander... Ok, andiamo avanti. E prendiamo qualche cosina di buono, di buono, di buono. Cannon, Black Bleakle, Hammer Template, BobbiliBee, Staff Sproofed. Questo ce l'abbiamo tutti. Allora, Door non ci interessa. Vediamo un po' che si fa. No, la cesta non ci interessa. Ma perché mi rimangono 60... Ah, usi infiniti, fantastico. Questi si mangiano. Questi sì, 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 sono armature. Super frecce, freccissime. Un Flint Dream. Ma non posso prendere... Perché, che cacchio, non c'ho... Interessante. Non c'ho questi rossi. Chi gli dà questi rossi? E poi c'è un Moon Clock. Con... Oh, 40. Ok, ok, si poffa, si poffa. Questi te fanno da magnà. Vogliamo prendere uno di questi? Ma sì, ma crepi la parizia. Ce ne prendiamo uno soltanto, perché non possiamo. E voglio prendermi anche un altro. Uno di questi qui. Papam. Vediamo un po' che ci darà nell'altare della patria. Dov'è? Dove sei? Che cacchio è quel coso? È un Vermilion. Vermilion? Mi scusi? Oh, che schifissimi che siete. Siete davvero schifosi. Tipo, fate davvero schifo... Dai, ve levate? Mamma mia, sono fastidiosissimi. Oh, 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 oh. Oh, paura. Volete morire? Ah, ma però non mi fanno niente. Sono fortissimo. E non mi danno anche niente. Ma li cortecci vostri? Un altare, una... Ho un po' di... Cioè, ho un po' la voce bassa. Spero mi pedonerete. Oh, eccolo qua. Molto bene. Allora, mettiamo uno di questi. No, qui. Sì, no, qui sotto. E qua ci mettiamo... Voglio mettere questi. No, non funziona. Questo? Il Tormented Boats. Ma perché sempre il Boats mi dà? No! No, no! Ma fa' un c***o. Ma fa' un c***o. E sempre con questo qua? Ma lo smetti di darmi le scarpe? Ma vai a c***o, va. Eccoli, io ce l'ho. Don, 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 don. Non cambia niente. Hmm, 14... 14% di damage reduction. Ma è molto buono, è molto buono. Vabbè, andiamo a vedere un altro po'. Che ci può dare delle cose base. Intanto un po' di cibo me lo sbrando. Mi sbranderei delle scarot. Molto bene. Poi, poi, poi. Qui c'è una cake. Qui c'è un disc template. L'abbiamo provato il disc, me lo so perso. Il cannon. Cannon, cannon. È questo qui. La back sword. È questa qua. Quindi le armi le ho prese tutte. Tranne questa, vediamo un po'. Hammer. L'hammer me manca. Me lo prendo, grazie. Ok. Questo è il claw. Degrade. Hmm. Hmm. Qui serve tipo per costruire. Vabbè, una cesta me la prendo, va. Ok. E niente. Mi voglio prendere a questo point of situation. Perché ti sei buttato di sotto? Brutto, bagarospo. Uno. Due. Tre. E quattro. Vediamo di capirci qualcosa, eh. No! No! Uh. 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 E c'ho il magnet mode. Comunque. Vediamo che fa. Io voglio, voglio gli altri pezzi dell'armatura. È brutto, bagarospo. Ehm. Così? Non li voglio! Ma! Ma! Oh, perché? Perché la domenica mi lasci sempre sola? Va bene, facciamo così. Tanto la voce si sta proprio andando. Facciamo così. No! Oh mio Dio! La merda sciacquerella. Ci mettiamo dentro queste cosine qua. Un piccone. Eh! Ho un piccone! Ma è fantastico! Ho un piccone! È stato un nubato sisce. Qual è quello più migliore assai? È il finished. Ah, ma ormai tanto. Mi danno sempre le scarpe. Testò a fare scarpe. Famoso. Ah, e vogliamo provare anche questo? Vediamo un po'. Uso... 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 Queste. La spada dei... Vattelappi and del culo fanno tutte lo stesso danno. Mi scusi? Buon uomo si levi. Allora... Tittiri tititi tititi... Tittiri tititi... Tittiri tititi... Oh, se soltanto avessi un po' d'oro... Un po' d'oro e un po' di sonno. Potrei fare una minimum sonno. Poi non so che cacchio ci faccio, eh. Però va bene lo stesso. Ok, 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 ok. Ragazzotti, io direi... Che è il momento di andare... Mm-hmm. Mm-hmm. Di andare a provare a risconfiggere... La... Regina... Delle api. Quindi... Io vado su. Ciao. Uh, ho trovato un mob nuovo. Un Bi... Biberon... Un Biberon. Un Justin Biberon. Vieni qua. Oddio, sei morto. Mi dispiace. Che mi ha dato? Le Clean Pearl. Va bene. Va molto bene. Non riesco a trovare la catapecchia dove stava la super schifa. Io ovviamente ho preso le carote e poi le ho lasciate qua, eh. Le ho lasciate là, anzi. Dov'è la tizia? Mm-hmm. Mm-hmm. Eppure era in questa zoo... No, lì c'è tutta roba. La vado a cercare. Oh, schifo, 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 schifo. Mortacci. Oh, 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 oh. Oh, Biberon, dove vai? Perché zompetti? Dove cazzo? Dove? Dove te ne vai? Ma che cacchio gli fa? Cioè, questi posti sono strani. Sono very strange. Ma giù c'è qualcosa di molto, molto colorato. E tu sei... Tu sei quanto di più brutto io ricordi. Tin, 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 tin. Oh, oh, ma mi viene proprio... A bello di casa, vieni qua. Ok. Allora, cerchiamo di... Di ragionare in un'ottica un po' tipo stealth. Eccolo! Mori! Grazie. Grazie. Ci danno le Cleon Pearl. Molto pini. Allora, 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 allora... Dove diavolo eravate? Laggiù c'è qualcosa di colorato. Però temo che sia sempre la stessa roba. Dove diavolo sta un alveare? Datemi un alveare. Cosa ci vuoi fare? Ci voglio da farmare. Le cose dell'extrabista. Sì, cos'è questa luce? Sì, salve. Ammazza quanti stronzoni. Stronzone con le lucette. Ma credo sia uguale questa, eh. Quindi non ho capito la differenza di coso qua. Discesa. Allora, io ho preso la discesa. E sono andato... Fatemi... Fatemi guardare. Fatemi riconoscere. Ho preso la discesa che stavo... Quassù. E se mi conosco deve essere andato a sinistra. Però non la trovo. Non la trovo. Andiamo a destra. Molto bene. Laggiù cosa c'è? Portacci quanti sete? Ma che ci fate tutti? Posso provare a ucciderne uno? Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Muori. 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 Ivo avido. Muori. 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 Muori male. Muori. Muori regolare. E daje. E mori. Non ci dà niente. Aio. Ah. Sì. Giusto. C'ho fame. Strano. Un golem. Uno. Uno stone golem. Ma pure sto stone golem. Sono più di. Più di uno. Aio. Ma magari ci devo parlare. Bella prete. Pam. No. Questa non funziona. Din din din. Ah. Ma fanno male allora. Sì. Siete aggressive. Eee. A umoni. A belli di casa. E dai morite. Oh. Ma c'hanno. C'hanno un bel po' eh. Più che altro non riesce a colpirli. Perché gli devi colpire sto. Sto coso. Sto pallino. Sto biselletto. Non danno niente tra l'altro. Ah. C'ho fame. Sì. C'ho fame. C'ho fame pure io in real. Devo essere sincero. Mmm. Taro ton. Taro. Taro ton. Taro ton. Taro ton. E vado a cercarla. Attenzione. Ho visto qualcosa di strano. Mi stanno tirando frecce. Sembrano delle galline. Sono i cugini. Ehi. Cugini di campagna. No. Ovviamente sono gemelli. Ma smettete di tirar me. Ma c'hanno proprio il gatling. Nove pirlozze c'ho. Mmm. Interessante. Andiamo avanti. E vediamo se troviamo qualche altra cosa di strange. Ho beccato una piramide. Tadà. E hai beccato una gniuba. Ciao gniuba. Salve. Ciao la tosse gniuba. In realtà ciao. Mi sembra che mi sta a rivenire la febbre. Mi sembra che mi sta a rivenire la febbre. E' tipo un mob spawner. Un mob spawner. Ah bello. Sotto c'è qualcosa? Vediamo. No. Interessante. Molto interessante. E là? Eh. Ma devi da morire. Mazza. One shot. Eh sì. Perché c'ho i potenziamenti di quell'altra. Quella RPG. Ah bello de casa. Vabbè ma l'utilità di sto posto? Cioè mi sfugge. Mi sfugge davvero. No con l'arco no. Nada. Nada malanima. Non c'è niente. Non c'è davvero niente. Ma è una specie di dungeon in teoria. Forse qui vieni a tipo farti queste perle qua. Sì. Brutte pirle. Blu. Eh. Con l'arco. Sbroft. Sbrift. Destra. Brust. Ma morite. Che brutto rumore. Che c'è lassù? E poi c'è un parto. Non c'è niente. Nada. Questo non appaiono. Come mai? Strange. Very strange. Forse ci vuole un po' di luce però mettere. Very strange. No è apparso questo. Ma che vuoi? Ma tu che diavolo? No non è questo. Questo è un bitonto. Un bitonto. Sembrava un Pikachu malforme. Guarda questo è diverso. Questo è quello che mi ha attaccato in una delle prime puntate. Però visto che stai sulle bolle io ti uccido. Sto facendo un botto di esperienza. Ma tanto non mi serve niente. Chi era? Chi era? Chi sei? Un temple guardiano? You are moving up before the dungeon. Ti sei dato? Chico? Che mi hai dato? Dici di andare su prima dell'imminent dungeon. Eh tipo questi suppongo. Questi mi fanno un cassio. Mori! Schifo! Vabbè allora andiamo su. Andiamo su. Oh ci sta tutto eh. C'è la tosse. Ci stanno gli stronzi. C'è la mosca. C'è la mosca. Ah belli de ca... Mi fa più male il male. Cioè la... Il mal di pancia? No il coso come si chiama? Sì il male. La fame. Ma morite. Bluffed. Bluffed. Sì secondo me è un Pikachu malformato quello. Sì effettivamente è bruttissimo. Ok. Ok sono su. Ok andiamo di qua. È finito. Ma what? Ma che pacco. Forse è qua su ancora più su. Intanto facciamo la luce. Luce sulla questione. E poi... Ah ah e no si esce. Fine. Non capisco. Mi sfugge davvero tanto questa dimensione. Non è. Fu rifuggi la dimensione. Ma che diavolo. Pim 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 pim. Ma mori. Io sto cercando la... La regina. Ma nulla. 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 Nulla trovo. L'ape regina. Ah eccoli. Saranno qua fuori. Saranno sponati. Oh mio dio. Pim. L'ho preso? No. Pim. Morto. Pim. Morto. Ma te ne vai per favore. Oddio. Abbiamo quante frecce. Andiamo a prenderle. Oh mosca. E vai. Sto registrando. Ma perché mi si avvicinano le cose? Che strange. Boh. Vabbè. Andiamo da qualche parte. Siete che potrei farmi ammazzare per risalire là sopra? Ah 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 ah. Ti 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 ti. Vediamo un poco. Se non trovo niente di interessante. Effettivamente vi faccio ammazzare. Questa dimensione è davvero davvero molto scarna. E soprattutto non ti dice niente. Cioè nel senso. Ehi. Che cazzo stai a fa' qua? Perché sei qua giù? Dove devi andare? Chi sei? Un fiorino? Cosa porti? Grazie. Laggiù c'è qualcosa. Sempre roba sbrilluccicosa. Tra l'altro qui non c'è un altro hunger 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 hungry. Quindi devo presumere che le recipe sono tutte quelle dello stronzone che ho intrappolato. Oh bingo! Ci vado. Eccoci qua. Aio. Allora. Visto che sono un ragazzetto che impara dei propri errori. Io direi di salire qua sopra. Ok. Tosse di merda. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Stiamo attenti a non cadere. Vediamo un po' se rompo qui. Ok. Molto bene. Non c'è niente. Ok. Dovrei. Oh ma volano! Ma mortocci vostra! Quanto siete brutti figli miei! Oh wow 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 wow! Che cazzo è successo? Allora facciamo così. Fermi tutti. Ci chiudiamo. Dentro. Ok. Adesso. Dov'è la regina? Beccate questo. 5! Ok. 1500. Oh! Oh wow 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 wow! Mortocci vostra! Mortocci vostra! Mortocci vostra! Ah perché ci stanno pure quelli potenziali! Mortocci di peppe! Figlio mio! Oh oh piccone figo! Eficency! Gna gna gna! Gna! Cos'è questo? Un albero? Ma chi è che mi fa male? Oh ma temenano attraverso l'albero! Ma dai! Ma siete scorretti! Ok. Riprendo. Riprendo l'energia. Oh ma è tosso sto mostro! Più tosso! Ok eccoci. Ho rigenerato. Mi faranno male? Mi fanno male? Ho molta paura? Ho paurissimo! Facciamo così eh! Visto che abbiamo capito che... Mortocci vostra! Quante siete! No 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 no! Non uccite! Non uccite! Non uccite! Dai! Dai schifosi! Rimanete lì dentro! Oddio santo! Cosa darei per una torretta della mod della portal gun? Ma stiamo da punto a capo! Come faccio Come diavolo faccio Io voglio uccidere almeno un boss in questa dimensione di cacca La devo uccidere Oh 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 Mori 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 Guarda stanno qua sotto Oddio mio Ma sono tanti Ragazzi sono troppi Non ci posso pure mettermi a fare così tutto il tempo Ecco poi uno mi da un pizzone Mortacci 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 Ho molta paura ho paurissima Ho davvero molta paura Aiuto 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 Dove cazzo stanno Ma si stanno Si stanno pestando da soli Oh my god Tu che ci fai qui Ciao piccolo No Sei un bug Basta ho capito Farò lo schifoso Si Si lo farò Si sono incastrati tutti qua dentro Oh mio dio 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 Siete troppi No 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 Ok Ok un po' di pace Un po' di pace No 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 perché un altro Ok 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 Che cazzo faccio Ti tiro un bombone Faccio la dinamite Mmm Citto Perché io trollo sempre Ehm Che cacchio pea faccio Non mi avvicinerò mai a quella Socolazza Ehm Ehm No 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 Mi dà fastidio non avere così Cioè avere così poche tipo carte In tarvola Mi sento Mi sento ticchettare da qualche parte Oh mio dio Oh ma eccola là Da qui non dovrebbero prendermi Giusto Quindi non passano un blocco Lo passano Ho molta paura No Riesco a prendere la queen No Ho finito il mana E a tirar frecce Non se ne parla Guarda quanti cacchio sono Ma la smettete Viene andate Siete davvero sbarbosi Però sto facendo il pieno di perle Non che io ci faccia niente Grazie 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 mille Grazie mille Sì va bene Ma dai ma io voglio fare qualcosa Voglio tipo ecco Adesso mi approfinquo Eccola là la bastarda Ma se invece di fare Mmm interessante Cioè tipo mi facessi una piazzola In cui mi sposto Comunque da qui sembra che non escano Eccola là la bastarda Mortacci quanti siete Ma io Dai Che poi Che poi Si droppano talmente tanti Cioè sponano talmente in tanti Guarda l'esperienza Io la voglio l'esperienza Posso fare così? Porca Cazzozza Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Via 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 Dannazione Basta Ok grazie Ah belli Dai Dov'è la zozzetta Voglio capire se passano Se non passano Forse siamo a un punto di svolta Allora Vediamo di salire qua sopra Ok Qui sotto ci mettiamo Il dortone Poi vediamo di scavare Con il nostro fidato piccone Eh What? Che accade? Ok Allora il problema è se faccio così Non vedo Ma che cazzo stanno facendo Ma Ho molta paura Ci passi? Vabbè Nel dubbio io ti uccido Allora Facciamo così Oh 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 Non 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 dovevo farlo Non dovevo farlo Ok Vediamo se passano Non passano Si stanno facendo del male da solo Fantastico Ai oh yo io 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 Cioè quello super potenziato Ecco perché mi rompo l'orbook Che Che mi ha dato? Boh Non lo so Oh mio dio Ho perso tutta l'arbatura State calmi State Ancora quello Maledetto Doi Aiuto Ragà Sono troppi Mi hanno guiterato Mi hanno Mi hanno fatto tutte cose Dov'è la regina spuzzolosa Di sto Cassius Oh davvero sono un botto Guardate la roba che mi sta arrivando Neanche la vedo Facciamo così Eccola là Brutta luridona Allora se non passano Per di qua vediamo Ok fantastico Io dovrei poter Oh mio dio quello è davvero terribile Vediamo un po' No no la difendono La difendono Ma davvero c'è dei balordi Ve ne dovete andare Andatene Su oh mio dio la spada Ah eccola Oh my god Vabbè io posso pure rimanere qui a fare esperienza Però alla certa vorrei fare qualcosa Di questa dimensione di cacca Ok vai No sono Sono milioni C'è pure un bagarospo là Un bagasbruco Se ti levi Allora voi vi levate no Oddio Vi levate No non ci riesco a mettere anche un blocco Nonostante pace Vabbè facciamo così No questa Ma hanno dato una vanga Che ci faccio No Allora si mettiamo Ok Ti levi Ok vai Adesso Tecnicamente Io dovrei poter Allungarmi per di qua Giusto Ce la faccio Emo ce la faccio Ho molta paura Che loro riescano Ad entrare qui dentro Ho davvero molta paura Tanto mi stanno proprio rompendo il buco E adesso Che sto qui Ah io Pim 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 Maledetti Stanno stressando eh Viene andate Dai Siete fastidiosi Siete alquanto fastidiosi Obbi addio tra tantissimi Ma loro con che No Tessoriello Ragazzotti Ci vediamo alla prossima puntata Da Shannacraft Stupida pregina Non farmabile Ciao